buongiorno buongiorno serena buongiorno buongiorno ragazzi benvenuti alla live della domenica come se tutte le domeniche le facessi no mi connetto quando riesco buongiorno buongiorno marco marco 24 allora per chi si è connesso per la prima volta questa è una live dove si parla solo ed esclusivamente di cani almeno parlo di qualcosa di cui so qualcosa perché altrimenti se volete parliamo di cucina di cui non so assolutamente nulla buongiorno marianna buongiorno alla qualunque oggi abbiamo un ospite in più in casa e quindi potrebbe essere un po più breve il tempo a nostra disposizione e il timer dietro di me è un timer visivo cerco di spostarmi un po così continuate a vederlo e sapete quanto tempo avete ancora a vostra disposizione per farmi le vostre domande ecco qui allora marianna scrive il mio cane non fai bisogni sulla traversina e sei fortunata buttale via e le traversine sono il male assoluto ragazzi i cani devono sporcare all'esterno non sono gatti fate fate un disastro gli insegnate tutta una serie di cose che poi diventano problemi più più rognosi portatelo fuori se è un cucciolo appena si sveglia dopo mangiato e dopo un'emozione forte sono i tre momenti clou in cui vorrà sporcare se proprio non posso fare a meno della traversina coprila con qualcosa come un foglio di carta di giornale sforacchiato perché quelli non assorbono nulla ma non insegnargli a sporcare su quella consistenza perché vi create un bel problema buongiorno margherita buongiorno antonella ha un solo vaccino però e te ne freghi e se il veterinario ti ha detto di assolutamente non deve uscire cambia veterinario non portarlo dove ci sono altri cani non portarlo dove non porteresti un neonato controlla l'ambiente dove lo porti il fantastico parcheggio vuoto di un supermercato a livello proprio sanitario è quasi perfetto se tu tieni casa i cani fino a che non hanno terminato tutti i piani vaccinali poi ti trovi con dei problemi comportamentali che nessuno ti potrà risolvere quindi ci vogliono ci vuole il buon senso no a lungo fiume no dove ci sono i cani nemmeno se già vaccinati questa è un'altra delle cazzate che dicono questi veterinari scusate se sono così aspra oggi ma ho appena sentito un tiktok di un veterinario che che contrariamente alle linee guida delle stesse associazioni veterinarie sto citando anvim e fnovi che dicono i cuccioli vanno portati fuori anche prima della chiusura del piano vaccinale con le dovute cautele e questo veterinario giovane mille milioni di follower su tiktok assolutamente chiudeteli in casa no chiedete bene trovate delle alternative allora Lara sono la ragazza che ti aveva chiesto del camper se ti va puoi dire come ti organizzi come mi organizzo con la macchina come mi organizzo con la casa nel senso che è un viaggio io ho sempre in macchina il kennel il trasportino l'acqua il cibo le varie ciotole tutto quello che è guinzaglieria l'aggiunta è che è un camper e dormiamo fuori quindi semplicemente è un trasloco ma io vivendo il cane 365 giorni all'anno tutti i giorni vivo come vivere in camper quindi c'è il momento in cui saliamo in macchina facciamo la passeggiata dobbiamo fare la commissione poi si va nel bosco poi si va nel prato la differenza del camper è che se muovente su quattro ruote quindi oggi facciamo la passeggiata in questa strada qui domani facciamo la passeggiata in quella strada là però non c'è una differenza perché quando un cane è abituato ed educato a vivere con noi sempre continuo a farlo cioè capisco la domanda ma veramente queste piccole accortezze io le ho messe in atto comunque ho cercato di lavorarle da che da che hobby è con me spero di averti risposto Lara penso che sono stata un po' vaga però tutto quello che faccio in camper lo faccio anche in casa e viceversa sono un po' più un po' più piccolo poi il mio camper magari farò un filmato sto pensando a febbraio di farmi un giretto un po' lungo e forse partiranno dei tiktok da lì perché sarò in giro per per qualche giorno quindi vediamo se si riesce a organizzare se sentite qualcuno che è russa non sono io anche perché sto a parlare e la Charlie che è qui che dorme accanto a Obi allora M ma non sempre funziona però mi manca cucciola corso mare in mano sei mesi in giardino giochiamo a volte mi morde io mi blocco e cerco di ignorare no non ignorarla falle capire come si gioca lei sta facendo delle prove e per prove ed errori imparerà a giocare con te se tu la ignori per carità lei hai detto che se ti tocca con la bocca quello è un gioco che non ti piace però non le hai detto il sì corrispondente devi trovare il modo di indirizzare quella quella sua propensione dove ti ti interessa di più in generale i cani corso sono poi molto molto anche dolci come come interazione sono enormi però sono dei pezzi pezzi di burro mare in mano possono essere un po' più ruvidi però possono imparare quindi trova proprio la modalità di accogliere anche un pochettino l'errore del cane senza farti staccare un braccio ma falli capire cosa si può fare perché il solo fermarti è il famoso no che non insegna un gran che sì ok non posso morderla e quindi a una certa dagli tu l'oggetto giusto o l'interazione giusta che differenza c'è fra il portare il cane al guinzaglio con la forse intendevi al collare o la pettorina perché il guinzaglio c'è sia per uno qual è meglio dipende dipende dal cane io la mia vecchiettina aveva un'ernia non poteva mettere la pettorina cioè proprio le facevano male praticamente tutti i tipi di pettorina al collare era perfetta la mia malina aveva sia collari che pettorine in base un po' come ero onestamente più comoda io nel bosco preferivo la pettorina perché aveva su la medaglietta ed era più visibile che non era un cane grosso in giro da solo perché la pettorina banalmente si vede di più ha un impatto più visivo quindi non era tanto per lei quanto per chi magari se la vedeva arrivare arrivare vicino se il cane cammina bene è in sicurezza e non sente male usate un po' quello che vi piace io preferisco le pettorine parlando di pettorine quelle con due ganci tipo questa questa in Italia non si trova vabbè ha due ganci ha due ganci sembra ad H in realtà è AY ma cambia poco qui c'è praticamente la testa del cane ecco qua il mio aiutante eccolo qui la testa del cane e a me piace questo tipo di pettorina qua perché non devo manipolare il cane particolarmente per fargliela indossare le trovo comode confortevoli le spalle si muovono bene e via però ce ne sono un milione di tipi scegliete quella che fa al caso vostro se sono cuccioli tenete conto che A crescono B probabilmente le masticano o le strusciano sui muri quindi non spendeteci mille milioni di euro per poi arrabbiarvi che non va più bene o ve la rotta le pettorine di piccolini sono vittime sacrificali mettetelo in conto allora Laura scrive portare sempre in giro e abituare al vinsaglio fin dal primo giorno con le dovute precauzioni sì con calma dal primo giorno per modo di dire io i primi due o tre giorni permetto ai cani ai cuccioli soprattutto di capire che questa è casa che io non sono uno sconosciuto e che le cose si fanno con molta calma io i primi giorni tengo il cane in realtà solo ho il giardino esco in casa per andare in giardino ma non lo porto fuori nessun cane nessun cane che viene con me anche dovessi mai adottare un adulto i primi due tre quattro giorni stiamo in un ambiente veramente protetto quando un minimo ti fidi di me e perlomeno sai riconoscere la mia voce in mezzo a quella di tutti quelli che potremmo incrociare allora inizio ad uscire ovvio questo se uno ha un appartamento non lo può fare ma chi può io preferisco tre quattro giorni di infatti anche i miei clienti quando arriva il cane a casa mi chiedono ma quando si può iniziare perché spesso molti iniziano con me prima ancora che il cane arrivi per prepararsi ad andare a prendere il cucciolo ad accoglierlo a fare tutti i passaggi fatti correttamente offro le consulenze pre adozione proprio per questo e quando arrivo il cane a casa io gli dico guarda aspetta quattro cinque giorni e poi ci vediamo al campo però non subito io do sempre un po' di così di protezione io su questo sono molto prudente perché è un attimo fare una cavolata e poi recuperare magari uno spavento una brutta emozione o un impatto un po' troppo forte cioè è veramente un attimo anche perché voi non sapete nulla di quel cane quindi che ne sai che c'ha paura delle moto e mentre tu sei fuori col cucciolo dopo due giorni che ce l'hai ti passano cinquantasette motociclisti perché vanno al raduno delle Harley e ti hai fatto un danno enorme quindi io di mio gli do tempo allora incrocio pastore tedesco CLC dieci mesi con i cani nuovi a Baia Ringhia cosa posso fare per evitarlo andrebbe visto perché cosa vuol dire cani nuovi perché cani nuovi stesso sesso tutti i sessi quelli grossi quelli piccoli da lontano da vicino è sciolto è legato c'è una rete non ci sono reti questi sono dentro dei cancelli va veramente visto anche perché l'abbaio e il ringhio sono sempre abbaio e ringhio con poche sì ci sono un sacco di sfumature ma in realtà è un abbaio con un ringhio è quello che gli ha fatti scatenare prima è quello che a me serve che masticativi utilizzo con hobby un po' di tutto io do corna della qualunque ho provato latte di yak e gli piace è la tragedia che costa una follia infatti nella prossima vita leverò yak per vendere masticativi al latte di yak perché te li fanno pagare come fosse oro e tutto provo di tutto anche cose di gli ossi di nylon i giochi quelli in gomma apposta proprio per farlo masticare più consistente consistenze potete dare meglio è è appagante per il cane poi ho la famosa pelle di pecora là dietro che è un masticativo lì sopra non so se se lo vedete più più ce n'è meglio è non a tutti i cani è possibile dare qualunque cosa primo alcuni cani cacciano giù intero quindi lì è pericoloso secondo ad alcuni cani le cose dure 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 non piacciono ad altri non piacciono le cose molli quindi dovete un pochettino calibrare calibrare il tiro tendo a preferire cose che sono a zero calorie perché altrimenti devo ricordarmi gli ho dato il masticativo abbiamo fatto la sessione d'addestramento poi c'è ovviamente la pappa e quindi anche a livello di cosa sto dando al cane al di là delle calorie proprio rischi di scompensarli un po' troppo zampe di gallina gli piacciono un sacco ho anche una foto su instagram con lui con la zampetta di gallina che esce dalla bocca tipo johnny stecchino fa un po' pressione non so se sul mio profilo di istruzione cinofila o il mio privato ma vabbè allora golden 13 mesi non alza la zampa per fare la pipì dagli tempo cioè non è un obbligo alcuni cani non lo fanno mai mi preoccuperei di chiedere al veterinario se le anche vanno bene perché magari ha voglia di alzare la zampa ma non ci riesce obby quando ha iniziato ad alzare la zampa era veramente ridicolo perché lo faceva in modo così esagerato che si ribaltava dall'altra parte ma letterale non sono mai riuscita a filmarlo peccato però ho riso tantissimo era bellissimo da vedere perché lui tutto tronfio impettito alzava la zampa talmente tanto che si capottava faceva il giro completo il taglia scrive corso love non farmi pensare a lino allora la mia border di un anno se il guinzaglio si butta per terra ogni volta che vede i cani da libera no può essere che li gestisca come pecora predatorio la punta quella del border tipica andrebbe visto non vuol dire che è felice di vederli cercherei di leggere il contesto se hai la possibilità di fare la prova con delle lunghine riesci a vedere meglio la risposta del cane perché hai più spazio per dare al cane il modo di fare le tre cose che tendono a fare quindi andare avanti andare indietro oppure fermarsi sciarco scrive che masticati vi usi l'ho detto buon pomeriggio nani ciao il mio cucciolo di quattro mesi quando capisce che dobbiamo uscire morde i pantaloni che fare potrebbe essere un pochettino preoccupato io tendo con un cane così piccolo a valutare cosa l'ha fatto partire quindi capisce che stiamo uscendo e va così in agitazione devo lavorare uno sulla calma due capire cosa gli fa paura dell'esterno tre tentare di costruire un'abituazione e una socializzazione a questo tipo di manovra socializzare vuol dire ignorare lo stimolo io prendo il guinzaglio lo rimetto giù se è rimasto calmo bravo lo riprendo provo magari a metterti il collare la pettorina quello che usi ma la calma si impara provandola quindi se tutte le volte questo inizia a fare lo spiritato in giro per casa mi prende i pantaloni li tira e io rido e in qualche modo faccio restring col cane per mettergli il guinzaglio e poi lo porto fuori in quello stato emotivo avete fatto tutto quello che era in vostro potere per agitarlo e non per calmarlo quindi occhio perché uscire sì ma c'è modo e modo di fare tutto questo tipo di sessione è esattamente parte di una delle lezioni che faccio al campo come si esce dalla porta perché perché la gente si complica la vita in un modo pazzesco noi istruttori istruiamo voi a gestire queste situazioni e costruire abitudini positive e una cosa di questo tipo che è proprio mero 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 addestramento barra educazione si può fare benissimo anche online se ti interessa contattami buongiorno il mio cane pastore bergamasco adottato dal canile se io esco di casa diventa matto questo è il problema e il leitmotiv del periodo serve aiuto serve aiuto perché le ansie da separazione ansie le insicurezze non saper stare da soli è molto 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 gettonato ed è molto 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 difficile riuscire a risolvere senza un aiuto professionale faccio fatica anche a darti un buon consiglio perché non avendo visto il cane rischio di darti un consiglio che sulla carta sembra valido abituolo a stare un po' da solo che è il leitmotiv però non è una cosa che mi sento di consigliare perché perché non ho visto il cane non so dov'è il suo dov'è la sua soglia se noi mandiamo i cani sopra quella che è la loro capacità di resistenza non imparano non memorizzano e anzi abbiamo ulteriormente alzato l'asticella e quindi abbiamo fatto un signor danno so che mi è difficile esservi di aiuto ma l'aiuto migliore che ti posso dare è cerca un aiuto se vuoi professionale in zona ma cerca aiuto da soli è difficile il mio cane è un anno ma con me due mesi è brevissima solo con ogni macchina che passa abbia può essere predatorio obby si lanciava sotto tutte le auto fino a poco fa adesso stiamo uscendo da questo tunnel andrebbe visto il fatto che possa avere una forte reattività sulle macchine non significa che non sia bravo obby si è svegliato e ora inizierà a rompere le scatole a me e a charlie buon pomeriggio come va? molto bene ho due cuccioli piccoli più di due mesi come spesso quando li chiamo non vengono come faccio la domanda è perché hai due due cuccioli non si prendono due cuccioli andrebbero visti anche perché già è difficile gestire un cane per volta quando sono due diventa mission impossible se stanno giocando evita di chiamarli piuttosto ti avvicini tu e ti fai vedere noi possiamo insegnare un richiamo e poi usarlo il che significa che tu non puoi chiedere un richiamo se non l'hai ancora insegnato tu stesso cioè noi possiamo chiedere i comandi che abbiamo già inserito un cane di due mesi non ha un richiamo non ce l'ha tanto più che se ha un altro cucciolo con cui interagire tess è l'ultima cosa a cui vogliono dare attenzione auguri io inizierei chiamandoli quando sono separati proprio e tu diventi un minimo interessante arrivano premiali giocali ci facci non lo so fagli complimenti gioca insieme a loro poi prova a metterli insieme e prova a fargli capire che se anche vengono da te non li leghi o comunque gli conviene però due cuccioli insieme non si prendono mai mai modi migliori per affrontare le paure con un professionista io oggi ho lavorato con un cucciolo che aveva paura e io stessa durante la sessione ho cambiato non la modalità perché il piano era quello e l'ho portato avanti però mi sono adattata più volte al nuovo livello di competenza del cucciolo perché ha fatto delle azioni andava avanti ringhiava baiava quando ho visto che a una certa non funzionava ha cambiato strategia io l'ho rinforzato ma questo è estremamente dinamico e cambia in base al tipo di cane di paura e di quello che c'è è come se voi ragazzi quando fate queste domande chiedeste a un parrucchiere come taglio i capelli il parrucchiere ti dice prendila ciò che taglia ma non lo sapreste fare lo fareste davvero no capisco la necessità e il fatto che stiate cercando aiuto ma non è così che vi possiamo essere di aiuto questo è un lavoro estremamente pratico se io non leggo il cane non vedo il contesto non vedo quello che succede dal vivo faccio fatica a darvi anche un consiglio che non faccia un danno ho due cani fratello e sorella non vanno mai tenuti la sorellina la devo mandare aggredisce il fratellino sei il ragazzo che ha i due cuccioli forse no sei un altro ragazzo perché tenete i cuccioli fratello e sorella se le daranno come non esiste certe pizze poi magari no vivranno bene però davvero crescere un cane per volte è già tanta roba due per volte è mission impossible ho un giardino molto grande che si affaccia sulla strada scappa sempre come faccio io mi sono messa la rete uno per uno un centimetro per un centimetro lungo tutto il giardino e ti assicuro il giardino di mia mamma è grande e mi sono infilata nelle siepi mi sono infilata ovunque pur di mettere tutta la rete e se il cane esce tu devi in qualche modo chiudere la vorrei tenere ma un comportamento troppo aggressivo come devo fare e in realtà tu hai due fratelli io io sconsiglio di tenere due fratelli ma non perché un ha un buon carattere l'altro no o due sono due pezzi di cuore no cioè proprio non vedo come tu possa riuscire a abbaglieranno stanno suonando le campane domenica me l'ero dimenticato brava Charlie e Obie lasciala stare Obie per cortesia bravo bravo patatino ha iniziato Obie a dare fastidio a Charlie non non so darti un consiglio perché due fratellini come ti ho già detto anche no e cercherei aiuto sia da un istruttore per fare una valutazione se effettivamente i due cani sono compatibili non sempre lo sono anche loro hanno le loro simpatie antipatie e capire come mai un cucciolo reagisce in modo aggressivo forse non c'è equilibrio fra i due però non aspettate che crescano e si diano delle pizze come non esistesse un domani alle prime avvisaglie magari erano già settimane che c'erano avvisaglie e però noi non ce ne eravamo accorti quindi cerca aiuto Marta ho un aschi di sette mesi ogni volta che incontro un altro cane tira impazzisce come posso fare è come sopra è la stessa praticamente domanda che ha fatto un ragazzo all'inizio della live e io poi le live le carico tutte sul canale youtube quindi ve le potete riguardare va visto è un problema di socializzazione è un problema di vuole andare a giocare qual è la motivazione per cui si comporta in quel modo questo sarebbe l'inizio di quello che serve a me per darti una risposta che abbia che abbia un senso comunque aschi sette mesi che sia un po' un matto cavallo ci sta non significa fargli fare l'errore però andrebbe gestita forse un pochettino meglio l'interazione quando è legato io uso il comando se è legato non mi piace che i cani interagiscano quando sono al guinzaglio non vivo in città e questo per me è facile da fare Lara galgo che non posso liberare devo andare in area cani per correre a volte abbaia i cani alla rete è un bel problema se non c'è l'alternativa io preferirei comunque caricarmi il cane in macchina lunghina di 15 metri a quel punto e sentiero montagna prato campo i tuoi migliori amici devono diventare gli stivali di gomma per intenderci allora il mio sim spinone è di 8 anni abbaia alle macchine come posso fare se abbaia e basta puoi fare un attentativo di desensibilizzazione con controcondizionamento e tu dirai grazie e io ti dirò grazie anche a te della domanda se io non vedo come abbaia e quando abbaia come faccio a dirti dove mettere il punto di rinforzo quando mollare il rinforzo e che tipo di rinforzo usare capisci a me che è una mission impossible esserti di aiuto così io senza fare un danno ti direi se sente sente non vede sente un'auto e non ha ancora reagito quindi alla zero reazione io gli direi bravo so e poi arriva la macchina e lui parte e devo vederlo oltre questo senza farti un danno non lo so Charlie vuoi farti vedere no ha detto che lei non si vuole far vedere ve la faccio vedere come eccola qua ciao Charlie ciao bambina e qui c'è Obi che le rompe le scatole adesso intervengo allora aspettate vi rimetto su qui perché sennò qua cade tutto patatino lasciala stare grazie molto gentile Obi allora ossa di nylon si le vendono sono 100% nylon gli mettono un insaporitore un gusto di XY costano un botto spesso non piacciono i cani perché sono molto dure però sono eccellenti per cani che hanno problemi alimentari malattie metaboliche e tutta una serie di altre problematiche per cui non posso dare del cibo sta succedendo di tutto sotto la mia scrivania allora pastore tedesco c'è l'EC dieci mesi me l'hai già scritto e riguardati poi la live che caricherò e senti la la risposta so che non ti piacciono gli arecani ma se non vado almeno un giorno sì o no e sì no no allora il fatto Obi salvo Charlie perché vieni qua vieni a dare fastidio a me vieni a dare fastidio a me ok no come ti dicevo non amo le arecani io piuttosto andrei di lunghina lunghissima ma dove anche perché in realtà non piacciono nemmeno a lui se all'area cani passa il suo tempo ad abbaiare i cani alla rete capisci che stai rinforzando un comportamento che tanto sano non è cioè un cane agitato che continua ad agitarsi messo in una situazione di agitarsi da noi capisco che ha bisogno ma ma anche no Charlie vuole andare in camera ho un pitbull di 18 mesi tutte le volte che uno di noi entra in casa lui sculenta e prende le ciabatte carino buongiorno credo che la mia cagnolina di cane corso ha una fessa per la palla la porta ovunque può essere e ci sono cani che vanno in fissa con degli oggetti particolari a me piace cercare di ampliare la loro scelta tu stai facendo il vandalo ho qui sotto Toby che fa il matto cosa fare se un cane geloso ogni volta che mi avvicino ai miei genitori lui mi ringhia e poi morde minchia non è geloso è proprio stronzo cioè allora va visto quella non è gelosia quella è protezione possessività un modo di esprimere un'emozione assolutamente non corretto va visto perché c'è un ringhio e poi c'è anche un uso della bocca non esiste sul pianeta terra che tu debba gestire una cosa di questo tipo ti consiglio di cercare qualcuno che ti dia una mano ma subito in fretta perché qualcosa nella vostra comunicazione nella vostra relazione è andato un po' un po' a pallino e quindi anche no buongiorno una cosa curiosa si che il cane è dispettoso se due buongiorno il cane è dispettoso e se parlo con un'altra persona a Baia sembra geloso no ti gestisce ti manipola vuole venire via magari è a disagio ha scoperto che abbagliando tu interrompi l'interazione con le altre persone e quindi ti sta gestendo è come per la ragazza sopra che non può avvicinarsi ai genitori e il cane addirittura l'inghia arriva all'abbaio cioè al morso ragazzi no ma non esiste sul pianeta terra in questo momento non so se avete sentito questo verso e Obie che mi dice cavolo non posso andare a disturbare la Charlie non posso giocare con te che mondo palloso e sì ancora 5 minuti poi andiamo in realtà oggi lo faccio lavorare al campo consigli sulle flatulenze canine la mia piccola lili fa aria tutto il giorno non ti dico l'odore allora domanda per veterinari quasi sicuramente andrei a cambiare l'alimentazione e a fare una valutazione di fisicamente o mesta al cane per un così chiedi al veterinario se ti dà il permesso di darle un po' di carbone vegetale questo ti sarà di grande aiuto se non aiuta il cane però aiuta te fidati però queste domande si fanno ai veterinari non agli istruttori il mio cane è un tenerone con tutto tranne con i maschi ringhissata gradisce come posso fare allora dipende maschi ci sta che ci sia competizione mica che tutti devono essere amici e spesso questo nei cani di casa purtroppo si ha perché non siamo capaci di gestirli bene nella fase proprio ormonale e parlo metto dentro anche me è difficile farlo perché ci vogliono maschi adulti competenti che gli spieghino come gira il mondo non è facile fare questo tipo di lavoro quello che io cercherei di fare è evitare di metterlo in situazioni che debba così in cui si debba sentire in dovere di dare una reazione non corretta quindi accetto il fatto di aver preso un maschio tutti sanno che maschi con maschi spesso non vanno bene meno sanno che femmina con femmina potrebbe non andare bene ed è in realtà non dico quasi sempre così ma su alcune razze sì e anzi è sempre così cerca di gestire non puoi cambiargli la testa puoi gestire se vuoi fare percorsi di questo tipo devi trovare degli istruttori che lavorino con gruppi gruppi di comunicazione questo tipo di bravi in Italia ne conosco due e sono uno zona Torino uno in Puglia se non sei lì o non sei là io nomi di altri non ne faccio perché quello che ho visto mi ha fatto accapponare la pelle poi magari nel mezzo c'è tantissima gente brava ma non li conosco e se io non li ho gesti lavorare non li così non me la sento di mandarvi abbiamo ancora un minuto ho un cucciolo di 6 mesi ha paura della macchina basta fare 100 metri in vomita consiglio non è paura potrebbe proprio stare male abituazione abituazione e se il cucciolo è così piccolo non perdere la speranza parti con la macchina spenta spenta lo metti su ti fai un tiktok e poi scendi e così via le abituazioni si fanno poco per volta voi buttate sempre il piede sull'acceleratore non è che fate due volte una roba il cane l'ha capita voi avete fatto mille milioni di anni di scuola per imparare a leggere e scrivere e diamogli il tempo anche ai cani di fare la stessa esperienza mi sta leccando un ginocchio allora è vero che i cani femmina sono più performanti nell'arte della guardia e sicurezza di casa dipende dipende dalla dall'individuo in realtà quello che si vede sulle femmine secondo me non so se ci sono studi in merito dovrei andare a guardare che sono tolta la fase del calore che potrebbe creare dei problemi in realtà ai cani maschi che ci sono in giro e non a loro sono più instabili perché le fasi ormonali che passano sono quattro e alcune hanno problemi non tanto con il calore ma con la famosa gravidanza esterica però in quel momento diventano iper sensibili iper reattive iper protettive quindi se vuoi la guardia in quel momento è il super guardiano cioè non esiste maschio che sia più bravo di una femmina in gravidanza esterica perché dovrebbero proteggere la cucciolata quindi più di una mamma che fa protezione non esiste al mondo però non lo so dovrei andare a guardare se ci sono studi di sicuro ci sono studi su le abilità spaziali in questo gli uomini i maschi sono più bravi anche nell'umano funziona così però nei cani di performance non lo so dovrei andare a sfogliare è sbagliato prendere il cucciolo insieme anche se fratelli assolutamente sì anzi se sono fratelli è persino peggio io da poco ho preso un mare in mano abbiamo già altri quattro cani fino ad oggi tutto ok ti consiglio di fare comunque un corso con un istruttore per capire se è davvero tutto ok o se è semplicemente piccolo e poi si creeranno problemi quando avete più di un cane è un attimo rompere l'equilibrio del branco un anno puoi iniziare la ricerca al tartufo non a livello professionale ma come ricerca olfattiva la ricerca olfattiva la opi la fa da quando ha due mesi cioè e quelli che fanno detection a livello professionale quindi ci lavoreranno poi portano a casa la pagnotta grazie al naso del cane iniziano mentre i cani vengono allattati dalla mamma perché è così che scelgono il cucciolo quello giusto quindi assolutamente sì poi bisogna vedere come viene fatto l'addestramento a strattoni e a calcioni e neanche un cane di 5 anni dovrebbe essere lavorato in quel modo ma neanche di 10 cioè nessun cane dovrebbe essere lavorato in quel modo se sai cosa fare come fare quando farlo a livello del cane che impara ben venga da qualche settimana il maremano attacca un altro cane cosa che non era mai successa sei ah scusa avevi scritto fino a qui tutto ok e poi mi scrivi sotto da qualche settimana il maremano attacca quindi siamo già fino a qua oddio cosa fare quando tira troppo il guinzaglio capire che non è il guinzaglio ma è l'ambiente e ricostruire tutto quello che avete fatto il problema è che se il tuo cane ha un'abitudine sbagliata è molto probabile che tu abbia la stessa abitudine sbagliata del tuo cane quindi servirebbe un istruttore anche la mia cagnolina baia le campane perché lo fanno allora hobby solo a quelle della domenica mattina domenica pranzo quelle della messa no anche perché io non sono mai a casa io sono abbastanza vicina così in linea d'aria al campanile secondo me perché gli piace però non lo so buongiorno ho fatto le lasagne io no magari faccio il balsamo per i capelli la crema antirughe e il sieroviso ma io cucina roba commestibile poca vero che i dalmata hanno bisogni particolari sono tutti sordi tutti sordi no che abbiano bisogni particolari nemmeno ci sono molti dalmata che possono avere problemi di sordità è una delle tipiche problematiche della razza ma ce ne sono tantissimi che possono esserlo spesso il colore bianco porta questo tipo di problema spesso no sempre allora sto scorrendo in fondo perché devo devo andare perché adesso hobby c'ha ragione che vuole andare allora è normale che quando tolgo l'imbrago da traino al cane ringhia per toglierla devo alzargli le zampe no non è normale bisogna vedere però perché lo fa perché a volte ho visto cani proprio di sled dog super 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 addestrati stiamo parlando di cani nei paesi scandinavi che fanno quello da sempre cresciuti corrono proprio sempre ringhiare quando venivano staccati ma era uno scarico emotivo perché magari si erano fatti quei 10 km di corsa a cannone in mezzo alla neve a meno 25 e quindi erano carichi a pallettone però era un ringhio proprio comunicativo non andrebbe visto il mio cane continua a mangiare le cose per terra giusto anche la cacca degli altri consigli impara che i cani li abbiamo selezionati per mangiare i nostri rifiuti per circa 25 mila anni quindi welcome hai un cane in casa perdonami se non ti sono più di aiuto allora ragazzi ci sono mille milioni di messaggi sotto che non sono riuscita a leggere mi fa piacere perché vuol dire che siete tanti e avete piacere a farmi le domande mi connetterò non so quando alla live forse domani visto che danno un'altra allerta meteo e quindi mi sa che mi salta tutto la giornata di lavoro e se non va giù la rete magari faccio una live questa live come tutte le altre le metto sul canale di youtube ci vediamo alla prossima ragazzi buona domenica ciao ciao Grazie a tutti.